Il prefetto di Taranto, il dottor Demetrio Martino, ha consentito con un ultimissimo provvedimento a darse l'ormitario non solo la produzione, come già appunto permesso, ma anche la commercializzazione dei prodotti, cosa che nel periodo tra il 26 marzo ed il 3 aprile era stata vietata. Un atto davvero discutibile, molto criticabile e censurabile considerando l'emergenza coronavirus, ma il Ilva Arcelor Mittal sembra davvero al di sopra della legge e al di sopra delle istituzioni. Ne parliamo con Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Sì, dicevi bene prima, è una decisione che non ci ha sorpreso, per la verità, però dà l'esatta dimensione di quello che oggi purtroppo la politica nazionale e le istituzioni in generale rappresentano, che non sono minimamente gli interessi dei cittadini. A noi spiace, abbiamo parlato di decisione politica, nulla contro il prefetto, però è chiaro che l'indicazione è venuta direttamente dal governo. Tra l'altro, una cosa che vorrei sollevare è che all'interno del DPCM c'è spazio per gli interventi sia dei comuni che delle regioni, tranne che sulle industrie che fanno produzione come la nostra. Quindi anche se volesse il sindaco, il presidente della regione fare un'ordinanza per limitare ancora di più l'accesso all'interno della fabbrica, nei fatti nessuno dei due potrebbe farlo. Quindi è paradossale perché si continua con la condanna dei lavoratori di quella fabbrica. Noi al prefetto abbiamo portato un documento che secondo noi era molto importante, la lettera di Lucia Morselli a Conte, a Patoanelli e a Gualtieri, in cui la stessa Morselli smentiva quanto per oltre un mese hanno dichiarato i tecnici e i responsabili di Al-Solormittal, cioè del minimo tecnico e quindi della messa in sicurezza degli impianti. Quindi neanche questo è bastato, è chiaro che si ha la netta impressione che oramai Arcelor può tutto. A sto punto io dico che non ha senso, visto che Arcelor si trova a Taranto, visto le dimensioni dello stabilimento, visto il numero dei dipendenti, non ha senso tenere chiusi i piccoli commercianti e tenere aperta una fabbrica di quel tipo che paradossalmente potrebbe generare un focolaio che poi potrebbe estendersi a tutta la regione. Rizzo dunque sembra che il diktat, le minacce tra virgolette della Morselli, cioè quando la Morselli ha detto se dovesse perdurare il veto di commercializzazione, a questo punto noi terremo gli impianti al minimo, come se il prefetto fosse stato condizionato da questa minaccia tra virgolette. Sì, la minaccia che poi continua, che è una minaccia in realtà che dice sostanzialmente avendo gli impianti al minimo e non potendo commercializzare il prodotto potrei anche non pagare i fornitori e le aziende appaltatrici, tra l'altro cosa che oramai va avanti da circa un anno perché come sappiamo ma a grado gli interventi della politica molto stelli, lo dico in tutta onestà, soprattutto la politica nazionale, Arcelor continua a fare il bello e cattivo tempo e ancora oggi abbiamo decine di aziende che non riescono ad incassare le fatture e quindi hanno difficoltà a pagare lo stipendio ai lavoratori. Fa specie che nell'ordinanza del prefetto il prefetto rimarca questi passaggi, anche e soprattutto perché parliamo di una multinazionale una multinazionale che non è in grado di pagare qualche milione di euro di fattura, non mi sembra una multinazionale però è inutile, l'hai detto tu prima, c'è una classe politica, una classe dirigente completamente piegata al volere di Arcelor Mittal ecco mi verrebbe da dire più che conte il premier oggi lo potrebbe fare tranquillamente Lucia Morselli che è quella come dire che è detta ai tempi, dice tutto quello che vuole e fa tutto quello che vuole. Per concludere Rizzo il prefetto ha manifestato la sua sicurezza dicendo mi sono sentito con lo Spesal il quale ha stabilito le varie misure di sicurezza affinché si possa tranquillamente produrre all'interno dello stabilimento rispettando le misure di sicurezza. Ci sembrano delle garanzie che non reggono molto. Qualcuno oggi mi diceva che siamo in violazione del testo unico sulla sicurezza, violazione della Costituzione ecco anche qua io se posso rispondere con una battuta direi che se le istituzioni facessero le istituzioni e la politica facesse la politica oggi Arcelor a Taranto già non ci starebbe più da tanto tempo e probabilmente i tarantini non soffrirebbero a causa di quella fabbrica. Purtroppo viviamo in una nazione in cui le multinazionali dettano i tempi e la politica è lo strumento per andare incontro alle esigenze delle multinazionali che quasi mai coincidono con quelle della gente comune. Spiace constatare, lo ripeto di nuovo, che anche rispetto ad un'emergenza coronavirus Arcelor sia zona franca. Lo Spesal, che vi posso dire? Lo Spesal ha dichiarato che era tutto a posto in fabbrica nell'ispezione che è stata svolta avanti ieri. Noi abbiamo un verbale degli RLS, di Fim, Fium, Wim, USB che dice l'esatto contrario. Quindi anche qua, come dire, il sindacato dice una cosa, il sindacato che vive in fabbrica 24 ore lo Spesal dice l'esatto contrario. Oramai abbiamo capito che Arcelor ha ragione su tutta la linea. Ecco, almeno da questo punto di vista, magari, se le nostre istituzioni ci evitassero la presa in giro magari ci dicano chiaramente, guardate, non possiamo fare nulla, dobbiamo accettare e siamo ostaggi di Arcelor e dobbiamo accettarlo e difenderci come meglio possiamo. Sarebbe, come dire, forse un atto di sincerità rispetto a queste continue bugie che ci vengono lanciate e soprattutto rispetto a quei messaggi che la politica nazionale continua a lanciare sulla responsabilità di restate a casa, restate a casa, mi raccomando, restate a casa e poi alla fine ti buttano all'interno della fabbrica come merce di scambio in favore, purtroppo, di una multinazionale. L'assurdo è che il prefetto ha emesso un decreto migliorativo per Arcelor Mittal proprio dopo che sono scoppiati dei casi nello stabilimento. È un paradosso. Sì, guarda, lo ribadisco, nulla contro il prefetto, ma se la Morselli avesse detto che gli servivano 50.000 persone per lavorare in fabbrica in questo periodo il prefetto, comunque esso si chiami, avrebbe comunque consentito perché ormai funziona così. A loro tutto è consentito, tu hai la legge dalla tua ma la legge non si applica nel momento in cui chi viola la legge si chiama Arcelor Mittal. Funziona così. Guarda, in tutto questo casino vorrei raccontare un episodio che è successo venerdì mattina. C'è stato uno dei lavoratori che ha vinto la causa seguente all'ex articolo 28 per la questione delle graduatorie che si è presentato in fabbrica per firmare il contratto. Questo lavoratore ha chiesto di fronte al responsabile del personale e a due sindacalisti di poter far visionare un attimo il contratto d'assunzione con Arcelor al suo avvocato. Gli è stato concesso e è andato via il giorno seguente, venerdì, ha ricevuto la raccomandata da parte di Arcelor in cui gli si dice sostanzialmente che lui ha rifiutato l'assunzione. Cioè questo è il modo di agire da parte di Arcelor. Parli, ti lamenti e ti licenzio. Scrivi qualcosa su Facebook e ti licenzio. Devi dire che tutto va bene all'interno della fabbrica, devi dire che noi siamo i migliori, non pagano i fornitori, il problema sono i fornitori che non vanno a lavorare e non loro che non pagano. Quindi è questo il paradosso. La politica e le istituzioni invece di stare dalla parte dei più deboli stanno dalla parte dei più forti. Quindi non so che dirti, in tutta onestà ho finito pure io le parole per andare a tentare di trovare soluzioni. In questo momento soluzioni non ce ne sono e con questo tipo di politica, che la voglio ricordare è la politica dal basso, era quella che doveva rappresentare gli interessi dei cittadini. Questi sono più lobbisti di quelli che stavano prima. La morale è che Arcelor Mittal, con tutti i suoi vertici, è inarrestabile in tutti i sensi.